Mi chiamo Kraputnik Armadillink e vengo dal pianeta Bekoda. Il mio pianeta è a settecento anni luce dal vostro e la temperatura media è di cinquanta gradi all'ombra. E' un pianeta rosolato e desolato. Ci si possono coltivare solo due cose, il Trond e il Quas. Il Trond è un tubero tondo dal sapore insipido. Il Quas è un tubero quadrato dello stesso sapore del Trond. Si potrebbe tranquillamente dire che sono la stessa cosa, ma per il morale di noi Bekodiani è meglio distinguerli. Così possiamo dire cosa abbiamo stasera di buono per cena, Trond o Quas, e creare un po' di suspense. Esistono tre modi di mangiare il Trond e precisamente seduti, in piedi e sdraiati. Parimenti esistono tre modi di cucinare il Quas, con sugo di Trond, con sugo di Quas o con ripieno di Trond. Avrete perciò capito che la vita sul nostro pianeta è assai dura. Non abbiamo altro che terra bruciata e campi di Trond e Quas, rocce nere, montagne di lava e qualche nerpero che sputa in aria la pilli bollenti. Non esistono animali, ad eccezione di un verme che si chiama crocuplas ed è immangiabile, ma costituisce un'ottima esca per i pesci. Sfortunatamente su Becoda non esistono né acqua né pesci. Beviamo però ottime sfremute di Trond e Quas.